E ora apprestiamoci a fare l'unboxing di questo pacco se non messo all'incontrario perché dall'altra parte c'è l'indirizzo e non mi parli il caso. Apprestiamoci a fare questo boxing. E' difficile farlo con la mano sola. Non c'è altro, non c'è solo questo. L'autografo d'Armino Vamburro. Anzi, va bene. Il cd. E' un altro cd. A fare lì. Non metta a fuoco, porco, cane. Ecco ora ho messo a fuoco. Adesso tutte le foto. Armino Vamburro. Da cavale, Armino. Armino Vambile, io chiamo Armino. Non ci fate caso. Oh, c'è pure Ferry Corden. Aspetta, se ci fosse anche Andre, sai. Tutto qui. E per ora è tutto. Ciao!